Ieri sera su canale 5 è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2015 il docu reality ideato da Maria De Filippi e condotto anche in questa seconda edizione da Filippo Bisciglia le coppie sono sbarcate sull'isola ed hanno cominciato la loro avventura nel reality da separati in casa non sono mancati i colpi di scena come abbiamo avuto modo di raccontarvi questa mattina ma tante emozioni ci attendono anche per la seconda puntata in onda giovedì 2 luglio 2015 e che vedrà protagonisti ancora una volta Teresa Ciglia e Salvatore Di Carlo ecco le nostre anticipazioni nella prima puntata di Temptation Island abbiamo assistito al piccolo dramma vissuto da Teresa e Salvatore i due hanno vissuto malissimo le prime battute del reality costretti a separarsi contro la loro volontà anche se non ci risulta che nessuno li abbia caricati a forza sull'isola entrambi si sono estragnati dal resto del gruppo sul finire di puntata abbiamo anche assistito alla scenata dell'ex corteggiatore che dopo aver visto un filmato su Aurora e Gianmarco temendo che qualcuno potesse avvicinarsi troppo anche a Teresa ha valicato il perimetro del resort ed è stato a stento trattenuto dalla sicurezza nella seconda puntata lo stato d'animo della coppia se possibile peggiorerà ancora dopo aver visto l'anticipazione grazie anche ad alcune fughe di notizie trapelate in rete possiamo ricostruire cosa accadrà nella prossima puntata Salvatore Alfalo dopo aver visto un video emozionante su Teresa scapperà, si tufferà in acqua e raggiungerà l'amata compagna subito dopo i due prenderanno la decisione di lasciare insieme il reality e proseguire la loro relazione lontani dai riflettori quella che vi abbiamo appena raccontato è una nostra ricostruzione che potrebbe anche discostarsi leggermente dalla realtà ma non di molto comunque